Ok ragazzi, il generale Vannacci negli ultimi giorni è tornato più volte sulla breccia Quindi, a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? Lo so, siete tutti qui principalmente per due motivi Primo, per sapere se effettivamente Bersani poteva dare a buon diritto o meno del coglione Vannacci E secondo, se davvero il generale Vannacci può non offendersi quando gli viene dato del fascista Come avrebbe fatto, secondo fonti di stampa, qualche giorno fa Rosy Bindi Ebbene, giuridicamente parlando, è possibile che il generale Vannacci abbia ragione in entrambi i casi E se potete comprendere più o meno intuitivamente tutti i motivi per cui è sbagliato etichettare qualcuno come Bippone Il caso del Bippista suscitato da Rosy Bindi merita certamente un approfondimento Come? C'è davvero qualcuno fra di voi che si chiede com'è possibile che non sia lecito dare del coglione a Vannacci? Lo spiego una volta per tutte, anche perché può tornare utile nella vita di tutti i giorni Allora, l'Italia, come sapete, è una democrazia e tutti possono esprimere liberamente il loro pensiero Entro però certi limiti che servono a tutelare la libertà, l'onore e la dignità degli altri Per cui, ovviamente, non puoi dire tutto quello che ti passa per la testa senza filtri, senza freni Per criticare qualcuno ti serve un fatto che si sia oggettivamente verificato e che sia imputabile alla persona che stai criticando Quando, per esempio, noi diciamo che Rubio fa e dice cose brutte e cattive Noi queste cose brutte e cattive non solo le elenchiamo, ma dimostriamo anche che le ha dette Perché di solito ci sono i video oppure ci sono i suoi post Nel caso specifico, Bersani ha detto Se è lecito dare della normale a una persona che non ha un orientamento sessuale standard Allora posso dare del bippone a un generale? E questo requisito, quantomeno a grandi linee, viene rispettato Perché effettivamente il generale ha affermato che chi non ha un orientamento sessuale standard È un'anomalia a livello statistico Ora, non voglio né annoiarvi né tantomeno passare per bipista o farmi dei nemici Ma a livello statistico effettivamente si parla di distribuzione normale per riferirsi alla distribuzione gaussiana Ovvero allo studio delle probabilità In natura, sempre o quasi sempre, moltissimi individui tendono ad avvicinarsi alla media di un certo fenomeno Che so, moltissimi individui hanno un'altezza di 178 cm, per esempio, che è la media Molti sono fra i 170 e i 185, ma pochissimi sono dei giganti che superano i 2 metri O dei nani che hanno un'altezza inferiore ai 160 cm Come è logico che sia, sei normale inteso in senso statistico se hai un'altezza più o meno vicina alla media E sei invece anormale in senso statistico se sei un gigante o un nano Ma questo non vuol dire che nani e giganti debbano essere disprezzati o che valgano meno rispetto a un tizio che ha un'altezza media per eccellenza Chiusa questa parentesi di livello letteralmente statistico E tra l'altro spiegata in maniera tale che qualunque professore di statistica avrebbe buttato fuori dalla finestra Prima il mio libretto e poi la mia persona Torniamo a parlare di diritto Allora, il fatto contestato da Bersani si è verificato perché effettivamente quella frase il generale Vannacci l'ha pronunciata Il problema sta nella continenza del suo commento che è il secondo requisito per poter criticare liberamente qualcuno Devi farlo in modo relativamente logico e certamente con senso della misura Per esempio, quando io critico il professor Parsi, non dico che è un bippone e non lo penso neanche Mi limito a rilevare che non si può in alcuno scenario, a mio parere, considerare gli amassoni al pari della nostra resistenza Perché naturalmente gli amassoni sono un'organizzazione criminale Utilizzano bambini soldato e soprattutto fanno cose brutte e cattive anche e soprattutto ai civili Cosa che la nostra resistenza non ha mai fatto E secondo me un soggetto del genere non può essere legittimato Mentre invece il professor Parsi ritiene che secondo il diritto internazionale Anche persone, un'organizzazione di questo tipo, più che le persone, possano trovare un minimo di legittimazione Sono due opinioni diverse Volendo, chiunque dei due potrebbe ricorrere al fasario di Bersani Che cosa ci vuole? Potremmo teoricamente dire Se mi paragoni gli amassoni alla resistenza allora io posso dire che tu sei un bippone Cioè si può fare sempre questa cosa qui Ma naturalmente non sarebbe una cosa giusta Perché si passa dal ragionamento all'insulto gratuito Non esattamente gratuito Però comunque sicuramente è un insulto Sicuramente sono termini che ledono la reputazione, la dignità e l'onore di una persona Senza avere quel ragionamento, quella logica, quel dibattito Che potrebbe giustificare una lesione minore Non so Se per esempio tu mi dicessi Guarda, non hai capito nulla perché la situazione è questa, non è quest'altra E hai fatto un errore marchiano Certamente la mia reputazione verrebbe intaccata Ma non sarei offeso Ci sarebbe un limite e una misura Quindi sotto questo profilo non c'è da stupirsi se un giudice ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti di Bersani Bersani farà opposizione Tra l'altro credo che abbia avuto notizia del decreto non dagli ufficiali giudiziari O comunque tramite la classica busta verde Oppure ancora da qualche ufficiale di polizia giudiziaria No, mi risulta che l'abbia avuto dai mass media e che non è carino Però farà opposizione e avrà eventualmente modo di spiegare E magari di riuscire anche a convincere un giudice Che dietro quel bippone c'era un ragionamento logico Io sinceramente non la penso come Bersani Questo si sarà capito Perché comunque esistono dei limiti che non vanno mai travalicati Però avrà la possibilità di difendersi Il suo avvocato avrà la possibilità di dimostrare Che la tesi dell'avvocato Catania Del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari È sbagliata Perché dietro quelle parole di Bersani C'è misura e c'è una logica Che verosimilmente ha messo Invece il caso del fascista dato più o meno direttamente da Rosi Bindi a Vannacci È profondamente diverso e decisamente più complicato rispetto a quanto anticipato e riferito dai mass media Brevemente Rosi Bindi ha affermato Brevemente Molti mass media riportano la notizia che Rosi Bindi avrebbe dato del bippista al generale Vannacci E questo ha detto Io non mi offendo E da qui il resto della polemica Perché naturalmente beccarsi del bippista dovrebbe farti invippare a bestia Ma in realtà la situazione è un pochino più complicata di così E per quanto mi riguarda Rosi Bindi è stata nettamente più intelligente e più prudente di Bersani Rosi Bindi infatti non ha detto che il generale Vannacci è un bippista Ha detto invece che le sue idee sono bippiste E ragazzi sotto il profilo giuridico c'è una differenza enorme Infatti se Rosi Bindi avesse accusato direttamente Vannacci di essere un bippista Lo avrebbe accusato di essere antidemocratico Di essere a favore di una dittatura E sì avrebbe consumato il reato A mio modesto parere Perché Vannacci non ha fatto nulla contro la democrazia Il generale si è candidato Ha vinto le elezioni E è stato eletto Non sta lavorando per sovvertire la democrazia Per quanto ne sappiamo Non ha ricreato un partito paramilitare Non segue questi precetti qui Per cui se Rosi Bindi lo avesse accusato direttamente Il generale Vannacci avrebbe avuto ampio spazio di manovra Giuridicamente parlando Viceversa Rosi Bindi ha fatto una cosa intelligente Ha detto che le idee di Vannacci sono da bippista È una cosa diversa Non si parla del suo operato Si parla del suo programma politico Che secondo Rosi Bindi è mutuato Da un programma politico degli anni 20, 30, forse inizio 40 Poi magari Rosi Bindi si sbaglia Ma indubbiamente la concezione di Stato Che ha il generale Vannacci È una concezione di Stato forte Con una difesa forte Che non fa affidamento su organismi sovranazionali Quindi sì, è certamente una concezione nazionalista Io discuterei sotto questo profilo Perché rilevo che comunque Fra essere nazionalisti e essere bippisti C'è una gran bella differenza Molti altri Stati hanno seguito Le stesse politiche di difesa nazionale Poi in realtà l'Italia nel ventennio È stata anche una potenza imperialista Ha raccattato le briciole Che gli altri imperi avevano lasciato indietro Però insomma il discorso va approfondito E ovunque ci può essere un dibattito Con un certo spessore Non può esserci la diffamazione o altro Ecco, per cui se Rosi Bindi dicesse a me Le cose che ha detto Vannacci Mi sentirei intimamente offeso Probabilmente la segnerei nella lista nera E alla prima occasione utile Gliela farei pagare In maniera perfettamente legale Naturalmente Però insomma colpirebbe nel vivo Diciamo così E mi sentirei davvero offeso Però, ripeto, questo è un sentimento personale Che va diviso da un'eventuale azione giuridica O dal risultato di un'azione giuridica Per cui, offeso sì Reato nei miei confronti forse no La cosa interessante è invece La risposta che ha dato Vannacci Perché, ripeto, se ci fossi stato io al suo posto Avrei risposto tranquillamente Che Rosi Bindi vuole offendere invece che criticare Ma è decisamente più intelligente di Bersani E lo fa in modo tale da non prestare il fianco ad azioni giudiziarie Poi, naturalmente, avrei anche precisato che magari l'azione giudiziaria ci sarebbe potuta scappare Ma non avendo la certezza di vincerla Non vorrei attivarla per poi trovarmi con un boomerang mediatico Nel momento in cui il giudice fa il mio stesso discorso giuridico Vannacci viceversa dice Io non mi offendo perché il bippismo è finito 80 anni fa Il che, dal mio punto di vista, è un clamoroso e inquietante errore Sia sotto il profilo della comunicazione sia sotto il profilo argomentativo Intendo dire Che cosa c'entra il fatto che quella fase di governo E quel regime è finito 80 anni fa? Qui dovrebbe contare la lesione al tuo onore Non conta il fatto che tu non voglia ripristinare un governo di quel tipo lì E ci mancherebbe anche Conta il fatto che stiano cercando di offenderti oppure no Mi spiego meglio Se qualcuno dicesse Generale Vannacci sei come Jack lo squartatore Dovresti querelarlo Tu invece mi stai dicendo Che se qualcuno ti dà anche del serial killer Non lo quereli Perché tanto Jack è morto secoli fa Mica torna indietro Cioè ti hanno appena dato del serial killer Ti dovresti perlomeno irritare Poi magari non hai tempo e voglia da perdere in cause per diffamazione Ci mancherebbe Umanamente ti capisco Però è la logica argomentativa di Vannacci Che assolutamente non funziona E assolutamente questa è la prima volta che vedo Vannacci fare un errore di comunicazione In generale può stare simpatico o antipatico Ma dobbiamo riconoscere che ha fatto un mucchio di strada creandosi e seguendo il suo personaggio Cioè ragazzi diciamoci le cose come stanno Quanti di noi conoscono il programma politico di Vannacci? Ammesso che ne abbia uno Pochissimi Tutti noi ci ricordiamo di lui per la decima E per altre frasi a effetto che di fatto non dicono nulla sulla politica che lui vorrebbe seguire Per cui Vannacci ha sempre giocato benissimo sulla comunicazione Qui invece fa un errore marchiano Perché sostanzialmente non passa nulla del suo messaggio E il suo messaggio in questa circostanza è un messaggio buono Deve essere una specie di contrappasso Perché lui dice guardate che il bipismo è un periodo storico finito Non tornerà mai e poi mai Banalmente non voglio fare polemica con Rosi Bindi Che ci sta è anche un comportamento maturo se ci pensate Però nulla di questo messaggio arriva a destinazione Anzi l'unica cosa che passa è Mi dai del bipista non mi offendo perché tanto è un periodo finito È un po' come se tu mi avessi dato del napoleonico Sì solo che essere napoleonici rispetto al giorno d'oggi è una cosa completamente indifferente Mentre se invece io ti dicessi che sei come un tizio con i baffetti da sparviero E la tua agenda è uguale alla sua Forse un pochino dovresti irritarti Ma questa fallaccia logica per l'appunto blocca il resto del messaggio Che invece è un messaggio buono Poi naturalmente questo non vuol dire che Vannacci deve starci simpatico O che il suo programma sia da sposare Anzi al contrario Il suo programma se corrisponde a quello che è filtrato nei giorni scorsi È assolutamente pericolosissimo per l'Italia e per l'Europa Ma di questo parliamo in un'altra occasione Quindi riassumendo Sì Vannacci ha fatto bene a querelari Bersani Perché tecnicamente era una battaglia praticamente vinta a tavolino Per cui ha fatto bene sia perché verosimilmente spannometricamente Prima face il reato c'era E infatti tanto il PM quanto un giudice per le indagini preliminari L'hanno pensata come lui E in secondo luogo ha fatto altrettanto bene sotto profilo giuridico A non attivarsi nei confronti di Rosi Bindi Il problema per Vannacci E questo lo ripeto per l'ennesima volta e la prima volta È sotto il profilo della comunicazione Ha sbagliato a mandare il messaggio Forse ha sbagliato per tenersi buona all'estrema destra Che verosimilmente rappresenta buona parte del suo elettorato Forse ha sbagliato semplicemente perché è umano sbagliare E quando si tratta di mettere in campo qualcosa che sia argomentato E non sia invece un'azione tipica da personaggio Dei serial tv piuttosto che dei reality Vannacci stenta magari un pochino a prendere il ritmo O magari molto banalmente è stato colto di sorpresa E ha dovuto improvvisare L'improvvisazione quando richiede una certa dose di approfondimenti Magari gli riesce male L'improvvisazione migliore per lui è quella di Getto Quella per l'appunto delle X E di altre frasi che l'hanno reso celebre Come per esempio l'accorgersi che Paola Enogu O Enogu o Egonu Insomma La nostra pallabolista non assomiglia a Sofia Loren Vannacci è diventato famoso per queste frasi qui Che sono un pochino scontate E vanno controcorrente Ma non hanno questo grandissimo spessore Per cui da quando Vannacci è diventato senatore E si ritrova a confrontarsi anche con realtà E questioni che hanno uno spessore differente E magari lì lo vedremo faticare un po' O sempre di più Voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere Lasciando scritto qualcosa qui sotto Se poi vi piace il mio canale Ricordatevi di iscrivervi Attivare la campanella Condividere il link al video con gli amici E naturalmente lasciare un mi piace Se poi vi sentite eroici Ricordatevi che potete anche Iscrivervi al canale Cioè scusate Abbonarvi al canale O diventare dei Patreon Se non farete tutto questo In un futuro alternativo Remoto e puramente eventuale Potreste ritrovarvi con Rosi Bindi Come Ministro della Difesa E i vannacci alla cultura Come sempre io vi ho avvisati Grazie di tutto per tutto E a presto